Il cross di Sturaro a cercare Higuain, Lemina passa in vantaggio la Juventus, passa in vantaggio la Juventus con il primo gol stagionale di Mario Lemina. Verso la banderina, cerca il cross, buca Lemina, la Juve la riapre subito con Mario Lemina al 63esimo. Lemina, provano ad andare in dribbling Lemina, salta un paio di avversari, Lemina, il 2-0 della Juventus, è un gran gol di Mario Lemina all'86esimo, la chiude lui, secondo gol in Serie A Team per Lemina, Atalanta a 0, Juventus 2, 3 punti ipotecati. La squadra di Dimitri Payet, c'è il mondo allà si fa, c'è la fronte, Mario Lemina, il s'est capito più occupato, è qui è della testa, remet l'Olipico-Varsaila al cuore della Juventus, l'Ambardo. L'Ambardo in a hurry to keep the pressure on, Lemina hits it, oh, and does he hit it? What a strike that is! They've got options here, Southampton, Armstrong, and then Lemina, and that's the goal, they need it! The break is on here, Lemina, it's all about the right decision, Dush Antalic is in! The difference which I say will have done in the lead, hisidenment is in! The right decision is up for Galatasaray 2 men hearts, рoker to hispand are over today. Ciao a tutti 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 Ciao a tutti